Per notizie d'Abruzzo siamo nella sala comunale di Scafa in compagnia di Cristiano Di Luca e consigliere delegato agli eventi e alle manifestazioni. Siamo qui alla fine del cartellone degli eventi natalizi per tracciare un bilancio. Consigliere ci può parlare di come è stata? Sicuramente è un bilancio molto positivo. Tantissime persone hanno partecipato, non solo i cittadini di Scafa ma anche quelli dei paesi limitrofi. Eravamo ottimisti ma una partecipazione così massiccia è veramente andata oltre qualsiasi pronostico ottimistico. E' venuta davvero tanta gente, il programma è piaciuto e tutto questo ci ha fatto pensare che Scafa aveva bisogno di un bel programma invernale e di un nostro ormai caro tendone perché ci siamo già affezionati. Quindi sicuramente daremo l'appuntamento all'anno prossimo, quindi diventerà un appuntamento costante in questa nostra amministrazione. Le date belle sono state davvero tante, il concerto gospel è piaciuto davvero davvero tanto, il concerto del Simone Blasioli, Jets Quintet altrettanto. Gli eventi a cui tenevo in particolar modo erano le tombolate perché avevano la finalità di acquistare dei defibrillatori. Sono andati davvero davvero bene, quindi abbiamo raccolto delle cifre davvero importanti. Stiamo lavorando già per quanto riguarda il programma e gli eventi che avverranno per il carnevale. Voglio innanzitutto ringraziare tutte le persone che hanno partecipato, voglio ringraziare le associazioni che ci hanno dato una grandissima mano, voglio ringraziare le colleghe dell'amministrazione come Martina Rocci, Giorgia Fabbro, Manuela Di Fiore e Daniela Di Paolo. Voglio ringraziare il sindaco che ci ha dato fin da subito carta bianca per qualsiasi nostra idea e nostra volontà. Credo proprio che lo continuerà a fare lui e anche gli altri colleghi dell'amministrazione. Oltre alle associazioni e a queste persone voglio ringraziare ancora una volta, l'ho fatto quasi in tutti gli eventi, i commercianti che hanno contribuito all'affitto, quindi in maniera economica, hanno contribuito all'affitto di questo tendone. Quindi grazie ancora una volta. Quindi diamo appuntamento alla prossima manifestazione che sarà quella del carnevale. Dove possono trovare i cittadini e le persone che vorranno venire a scapare informazioni utili? Come abbiamo già fatto per quanto riguarda le manifestazioni invernali e quelle estive, lo possono trovare sempre sulla pagina Facebook e anche sulle locandine che noi puntualmente pubblichiamo sia online che nelle attività. Quindi non buggate ai prossimi appuntamenti. Scafa ha dimostrato di essere viva, il che ci fa enormemente piacere.